Scenderanno in strada nei prossimi giorni, tre ad Ancona e uno a Iesi, i quattro pullman Mangia Smog equipaggiati con un apposito dispositivo realizzato da Anzaldo Trasporti e monitorato da AGT Engineering, un progetto pilota di sostenibilità ambientale sviluppato da Conero Bus, in collaborazione con le due amministrazioni comunali di Ancona e Iesi e finanziato dalla Regione Marche, illustrano il progetto il presidente della Regione e l'assessore Trasporti. È una sperimentazione che se darà i frutti sperati può essere declinata e proposta in altre località che mostrano problemi di inquinamento dell'aria chiaramente. È una sperimentazione che credo debba essere una soddisfazione e un orgoglio per tutti perché ci dicono e così è di fatto che è la prima città italiana, la prima ragione italiana a fare una sperimentazione del genere e credo che su questo bisognerà puntare perché comunque la qualità dell'ambiente deve essere sicuramente uno degli obiettivi primari dell'Italia e dell'Europa in questa fase. Circa 160 mila euro di economia di fondi FESD che sono stati utilizzati per sfatare il mito secondo cui il trasporto pubblico locale inquina e inquina si basta. Ancora nel resto c'è una tradizione grazie a Colerobus molto molto spinta per quanto riguarda la mobilità dolce e sostenibile abbiamo ritenuto di sperimentare questa iniziativa che speriamo possa diventare una buona prassi a livello regionale e nazionale. Noi abbiamo ideato in collaborazione con Ansaldo e con l'Università della Sapienza di Roma un sistema di rilevazione circa le polveri sottili e quindi filtraggio non è solo un discorso di monitoraggio ma filtriamo anche l'aria quindi mentre il mezzo fa il suo servizio e quindi trasporta le persone in realtà sul tetto trasportiamo filtri e un sistema di rilevazione per cui noi conosciamo in ogni istante qual è la situazione e si poi si possono prendere dei provvedimenti conseguenti perché dopo di questa sperimentazione che durerà minimo tre mesi dove noi andremo a verificare quale tipologia di filtri ha dei risultati superiori rispetto ad altri perché in realtà sono tre sistemi diversi perché ci sono tre mezzi su Ancona, ognuno ha un sistema diverso, rileviamo questi risultati e poi si deciderà se sono performanti, quanto sono performanti e cosa si possa portare avanti se diventerà una soluzione praticabile per migliorare ulteriormente la qualità della nostra città. I mezzi sono quattro e coinvolgono però non soltanto il comune di Ancona ma anche il comune di Chiesi, parte dall'Università della Sapienza questo lavoro quindi saranno loro a fare il monitoraggio quindi avranno delle schede che si collegheranno e consentiranno di monitorare le emissioni dell'aria, la capacità di assorbimento e poi vedremo. A Iesi voi sapete noi abbiamo una centralina proprio da traffico per il rilevamento delle polveri sottili e quindi non solo l'autobus che insomma ci aiuterà nel purificare l'aria però comunque dobbiamo sempre fare altre azioni così come per restare nei limiti della legge e quindi questo autobus io ringrazio moltissimo Conerobus di averlo messo a disposizione del comune di Iesi perché tra tutte le azioni messe in campo anche questa aiuterà la città di Iesi a ridurre l'inquinamento quindi le quantità di polveri sottili presenti nell'aria.